ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video io sono andrea e sigla oggi abbiamo invertito come al solito l'intro del video questo è il mio primo brc del 2024 ogni volta facciamo un video nuovo se tra sei mesi faccio un video e dico questo è il primo video del 2024 vabbè perché non mi conoscessi io sono andrea vi lascio qui sotto tutti i link dove seguirmi per scoprire chi sono potete anche dare informazioni su youtube altrimenti insomma io faccio video recensioni unboxing parlo di videogiochi insomma parlo di un po' di roba quindi se vi piacciono tutte queste cose da tema nerd seguitemi oggi tra i tanti video che faccio faccio pure il brc ovvero delle breve recensioni consigliate spesso da me ogni tanto da qualche amico che mi chiede di parlarne o qualche persona che conosco che mi segue che mi chiede di parlare di un determinato film oggi però vi parlo di un film che ho visto io ho visto da pochissimo lo trovate su crunchyroll peraltro anche in lingua italiana e sto parlando di suzume di makoto shinkai del 2023 quindi purtroppo non è rientrato nella top flop del 2023 perché non sono uscito a vederlo entro il 31 di dicembre però vi lascio qui sopra la top con tutti gli altri film che ho trattato belli medi e brutti quindi insomma la regista di your name makoto shinkai e questo suzume per me è molto molto bello sicuramente uno dei migliori film d'animazione del 2023 peraltro l'animazione ricorda molto your name bellissimo secondo me questo suzume però non è da meno è bello non è bello quanto your name secondo me però su alcune cose è veramente clamoroso stupendo questo suzume ovviamente però un po di spoiler quindi per chi non ha visto il film era curioso di vedere cosa ne penso questo vi dico che è veramente un gran film un film di amicizia di amore di anche un ottimo a livello proprio visivo con una storia molto bella quindi insomma se non l'avete visto vi consiglio di vederlo e di non vedere questo video fino a un certo punto perché tra un po' cominceremo pure un po' a spagliare qualcosa anche se la recensione sarà brevissima perché voglio che qualcuno lo veda ecco se mi appare veramente della trama il film parla di questa ragazza appunto proprio suzume iwato che un giorno andando a scuola incontra un ragazzo misterioso che gli dice per caso qui vicino c'è un tempio qualcosa di antico lei dice sì ci sono delle rovine effettivamente di un paese che un tempo era abitato ma adesso è appunto disabitato e lei già vedendo questo tipo molto particolare con questi capelli lunghi c'è quasi un colpo di fulmine diciamo così si prende un po' una cotta però rimane una cosa così poi decide in realtà di indagare su questa cosa e decide quindi di raggiungere questo ragazzo in questo paesino abbandonato stranamente non lo trova, trova però una porta nel bel mezzo del quasi niente che è una porta un po' tipo la Monsters & Co e decide di aprirla per vedere cosa c'è dentro dentro vede un mondo che sembra un altro mondo prova a passarci attraverso e non riesce, ritorna dall'altra parte non va in questo mondo in poche parole e a un certo punto c'è tipo una specie di terremoto insomma qualcosa che la spaventa e lei fugge via, ovviamente si scorda di chiudere la porta da questa porta poi cominceranno ad apparire entità strane che sono una specie di vermoni che entrano nel mondo reale e fanno causare terremoti eccetera nel mentre, poco prima che era lì, trova una roccia che si è trasformata in una specie di gattino e è fuggita via il ragazzo, insomma dopo aver fermato l'arrivo di vermoni eccetera grazie anche all'aiuto suo di chiudendo la porta gli dice dobbiamo trovare questa chiave e questa chiave è diventata questo gatto e quindi partiamo dalla ricerca di questa chiave per riudere diciamo la porta per sempre per evitare questi esseri che vengono nel nostro mondo per fare i terremoti peraltro questa cosa bellissima il fatto che questi esseri vengono nel mondo e creano i terremoti le catastrofi naturali stupenda questa cosa fino a quando a un certo punto lo troveranno questo gatto e deciderà così a caso punto di trasformare il nostro protagonista in una segliolina che lei ricordava che gli aveva lasciato la madre eccetera e quindi lui tutto il tempo sarà questa segliolina e dovranno andare in giro per il Giappone a chiudere le porte quando escono fuori questi mostri perché lui aveva tutta una storia era un chiudiporte, un controllaporte adesso mi ricordo guardiamo delle porte insomma come i genitori doveva fare questo lavoro per mantenere l'equilibrio nel mondo peraltro bellissima il suo personaggio bellissimi tutti i personaggi in realtà dalla nostra protagonista la zia che la cudisce perché la madre sembrerebbe morta l'amico di lui con la macchina che è bella però mezza sponata insomma per tutti i rapporti anche con il gatto che ci saranno stupendo un rapporto incredibile tra i personaggi bellissimo, molto sfaccettato, molto bello la storia su me è veramente figa e si conclude in maniera interessante in una scena incredibile incredibile con questo rosso stupendo, con questo verramone che combatte contro questo altro essere che non vi sto a dire cos'è ma insomma è un film veramente bellissimo in alcuni punti tocca i dialoghi toccano dei livelli altissimi quando la zia si arrabbia con lei veramente stupendo stupendo tutto il background tutti i flashback tra lei e la madre insomma un film per me veramente complesso particolare che vi consiglio certamente di vedere una zona bellissima questo Suzume è veramente uno dei migliori film del 2023 e il mio voto è 3,5 su 5 dunque questo è un 3,5 che sta un po' stretto però diciamo che va bene così 3,5 su 5 per questo Suzume di Makoto Shinkai anche qui la CGI è utilizzata con parsimonia e veramente è utilizzata in maniera perfetta anche in questo caso quindi veramente il cinema giapponese la diversione a questa parte sta facendo dei passi gigante mantenendo la grafica 2D ma senza recludersi dallo sfruttare la tecnologia 3D quando possa quindi grazie per aver visto questo video BRC spero che vi sia piaciuto vi mando un bacione se avete visto il film fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate se vi è piaciuto anche a voi insomma eccetera e ci vediamo alla prossima ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti